Live. Scusa, mi dicevi, i coralli si può abbattere, diciamo, la CO2 o comunque compensare come si fa con gli alberi? Te lo chiedo perché ho appena comprato mille alberi, una foresta, ho comprato proprio per fare un offset dell'impatto dei miei NFT, quindi potevo comprare i coralli, in sostanza. È recentissimo, di fatto hanno scoperto che i coralli assorbono più CO2 addirittura anche degli alberi e quindi come c'è il concetto del carbon credit, quindi pianto un albero e questo contribuisce all'assorbimento del CO2, si può fare la stessa cosa con i coralli e il CSBC ha appena investito una cifra spropositata su questo, c'è un pezzo in particolare fra il Kenya e il Mozambico dove i coralli ci mettono circa un quarto del tempo a crescere, quindi si piantano, tu da piccoli li puoi prendere, puoi esportare in diversi mari e questo ovviamente contribuisce al tema dell'assorbimento della CO2, quindi longevità del pianeta, visto che noi siamo su questo tema. Il vostro argomento ovviamente è longevità. Mi domandavo, prima di entrare nel merito, ho mille domande ovviamente da fare, visto che faccio 50 anni quest'anno, quindi c'è quel momento in cui dici quanto longevizzerò ancora, no? E quindi hai mille domande, mille approfondimenti che fai, che prima invece facevi di meno, però a prescindere da questo mio dettaglio anagrafico ero curioso di capire il vostro background, quindi A come vi siete conosciuti e B come e quando avete iniziato, per dare un po' il contesto di quello che fate, a occuparvi di questo tema della longevità. Chi parte? Massimo, parti tu dai. Il mio background è medico, quindi io ho fatto il cardiologo per tanti anni e mi sono occupato sempre un po' di biotecnologie e di riabilitazione cardiometabolica, quindi venivo dal mondo della prevenzione primaria e secondaria, quindi è associato un po' alla tecnologia, alla telemedicina, quindi alle innovazioni dal punto di vista tecnologico che accompagnano un po' la salute e fanno un po' da guida alle persone anche al di là dell'ambulatorio medico. E da lì la traslazione verso lo stile di vita, l'alimentazione, l'attività fisica e tutti i metodi che potessero in epoche un pochino in più, dove non si parlava ancora di longevità, di appunto migliorare la propria qualità della vita e quindi prevenire le malattie. Prima la longevità era vista come preveniamo le malattie, oggi è viviamo al meglio delle nostre possibilità. E poi adesso puoi parlare a Luigi per lui, lui era un dirigente importante, un'importantissima azienda farmaceutica della città dove lavoro io e dove lavoravo, ma lavoro anche adesso che Parma e quindi ci siamo conosciuti, è nata un'amicizia e da lì abbiamo degli interessi comuni e probabilmente siamo persone, anzi siamo molto complementari, abbiamo capito che per scaricare a terra il nostro bagaglio, il nostro potenziale, io ho bisogno esattamente di una persona come lui e lui aveva bisogno della contaminazione mia medicale perché lui non è logicamente un medico ma dire a lui chi è. Chiaro, chiaro. Sì, è perfetto quello che hai detto Massimo. Io invece ho un background totalmente manageriale e imprenditoriale perché sono ingegnere chimico, nato, vissuto solo nel farmaceutico, nell'healthcare, quindi prima come manager, dove ho conosciuto Massimo. E poi mi hai preso questo sacro fuoco imprenditoriale, ho fatto la mia start-up del mondo farma, producevo dei prodotti per il mondo delle farmacie, lì abbiamo fatto un primo esperimento a noi di un po' antesignano perché abbiamo fatto una linea di health food negli anni 2014-2015, non era ancora, avevamo una pasta straordinaria che faceva dimagrire, mangiavi la pasta e dimagrivi, era un grandissimo prodotto ma forse era troppo presto. Noi siamo veramente molto complementari perché lui è il nostro, è la scienza, è il dottor longevity come lo chiamiamo noi, quindi la ricerca, lo studio, le tecnologie, i prodotti, i principi attivi. Io sono un po' l'uomo di marketing che ha permesso di prendere qualcosa di altamente scientifico, di renderlo fruibile, moltiplicabile ed esportabile, poi questo è un po' il nostro modello di business. Ok, ho una prima curiosità che volevo girarvi ed è questa. Io ho fatto un po' di chiacchierate negli anni con vari personaggi, adesso mi viene in mente David Sinclair, Longo sul tema della dieta, eccetera, e la sensazione che ho, o non so, weem off sul freddo, quindi diciamo ho provato così a spaziare su tanti argomenti diversi e ogni volta ho sempre questa stessa identica sensazione che ogni persona con cui parlo vede il problema solamente da un certo punto di vista, cioè quello che dice guarda l'alimentazione fai così, però poi magari io sono incazzato, depresso, stressato tutto il giorno, mangio benissimo, ma ma crepo dopo dieci minuti, oppure quello che dice no, mi raccomando, ecco la doccia fredda, perfetto, io faccio tra parentesi ogni giorno le mie docce fredde da tempo, mi sento benissimo, però poi magari mangio da McDonald's tutti i giorni, cioè mi sembra che manchi una visione d'insieme di questo problema nella mia ignoranza, ecco allora mi domandavo a che punto siamo e come la vedete anche voi da questo punto di vista. Infatti secondo me il fatto è noi non abbiamo inventato praticamente nulla, a differenza magari di David Sinclair o di Winoff, che sono stati, o anche di Walter Longo, che in realtà hanno visto verticalmente il problema della longevità, settorialmente al problema e l'hanno visto molto bene, fatto molto bene e sono diciamo degli scienziati da copiare, o comunque da seguire. In realtà il nostro sforzo è stato quello di unire tutti questi puntini, di mettere tutti insieme, infatti nell'attività che facciamo noi ci occupiamo di mente, di cibo, di corpo, di bellezza, di attività fisica e anche di diciamo medicina vera, perché poi alla fine non scordiamoci che molto spesso quando si parla di longevità si parla, non so, di vivere a lungo e magari ci si dimentica delle cose basilari, che sono magari più brutte per uno che pensa che magari con un chip sotto pelle si possa in un domani anche monitorizzare alcuni parametri, ma magari la pressione a 200, il colesterolo a 300 e te ne dimentichi perché sei troppo proiettato nel futuro. Quindi abbiamo contenuto tutto questo esattamente partendo dalla stessa identica domanda o dubbio che hai avuto tu e da lì abbiamo cercato di creare una situazione che grazie anche, poi anche Luigi ti confermerà perché poi è stato l'artefice, io ho cercato di dare consistenza ed efficacia al progetto, ma lui ha cercato, sapendone tantissimo anche di medicina, in realtà per quanto non sia un medico, di dare experience perché l'altra grande cosa che manca non è solo la settorialità ma è quella che spesso tu quando fai un atto efficace medico o comunque fai qualcosa per migliorare la tua vita in senso salutistico, spesso l'esperienza è povera, invece quando è un'esperienza molto bella, lussuosa, e vi dicendo, spesso l'efficacia non è così efficace. E quindi ecco, questo è stato mettere insieme tutte queste cose. Tutti i pezzi. E Luigi, per dare concretezza, se uno viene da voi, qual è il percorso che fa? Il percorso è quello di considerare la longevità un lifestyle, quindi il problema della longevità che è sempre stata guardata come medicina è il problema della medicina, cioè tu vai dal cardiologo che ti cura il cuore, vai dal gastroenterologo che ti cura la pancia, vai dall'ortopedico che ti cura l'articolazione, ma non c'è nessuno che mette in fila i pareri di tutti questi medici e ti crea un percorso, perché la longevità alla fine è un percorso. Ed è un percorso che spesso si fa un po' one shot, sono a tappo, non ce la faccio più, mi prendo due settimane, vado a Lanceroff, giusto per citare una clinica a casa tua, per due settimane mangio benissimo, faccio palestra, mi rigenero e poi torno nel mio incubo. Ecco che noi partiamo da due concetti, uno è la city clinic, cioè noi siamo sotto casa tua, dove lavori, tu devi avere la possibilità di non avere barriera all'ingresso, di arrivare da noi velocemente, infatti le nostre cliniche sono retail, sono su strada, sono facili da arrivare, siamo nelle grandi città. Dicevi, siete city clinic, ok? Quindi siete... Esatto, e cerchiamo di curarti a 360 gradi, curarti poi non è la parola corretta, ma di seguirti sui grandi aspetti della nutrizione, quindi, come diceva Massimo, la parte nutrizionale, la parte noi cerchiamo da un buddista medico di vedere parametri che non tutti guardano, i livelli di infiammazione, di stress ossidativo, abbiamo anche alcuni, tra virgolette, parametri con l'evoluzione che poi la medicina ha fatto, i test del DNA, insomma, microbiota intestinale, insomma, argomenti oggi abbastanza di moda. Da quello ti costruiamo un percorso dove ti chiediamo però un engagement un po' di medio-lungo termine, cioè noi non vogliamo raccontarti la storia che in due mesi o in un mese o in due settimane ti facciamo vivere di più. Cerchiamo di prendere un pezzetto alla volta del tuo tempo per costruire un lifestyle quotidiano che si costituisce anche a casa. Tu hai citato la doccia fredda, è la routine tipica del nostro cliente. La mattina gli suggeriamo 10 minuti, 20 minuti di allenamento a digiuno, doccia fredda, un po' di supplement che aiutano ad accelerare, insomma, il benessere e poi una colazione fatta in base poi a quello che sono le tue esigenze. E da noi fa un percorso. Ci sono tre grandi pilastri che sono il freddo, che ha questo grande potere antifiammatorio. Noi siamo famosi perché poi siamo anche i più grandi in Europa con queste crioterapie. Noi abbiamo introdotto la crioterapia total body. Tu avrai visto tante volte probabilmente quella che fa Ronaldo, quella con la testa fuori, usa gas. Anche lui la total body. Noi abbiamo queste criocamere elettriche dove puoi fare un total body reale e questo ti permette di lavorare sul sistema nervoso, quindi l'attivatore anche di tutti i circuiti serotoninergici, quindi il BDNF, il fattore neotropico cellulare, quindi un po' di parametri che aiutano veramente il tema della longevità. E per noi la CRIO è un, non ti dico tutti i giorni, ma l'ora è molto frequente. Il digiuno intermittente o detox intermittente, quindi alternare questi momenti di forte restrizione calorica a una dieta equilibrata. Noi non siamo stati ai mani di una particolare tipologia di alimentazione, se no che diciamo riduci tutti i cibi che infiammano e aumenta tutti i cibi che invece sono un po' antinfiammatori. Però ogni tanto dai questo shock al metabolismo, all'organismo, adesso sto intanto troppo forse nella parte medica, però insomma è un altro grande pilastro. Il terzo pilastro è la consapevolezza, che è questo il nostro shift mentale che vogliamo far fare. Cioè longevità non è vivere di più, ma è vivere oggi, oggi, non domani, al top delle tue possibilità. Quindi grande lucidità mentale, grande energia, vederti allo specchio bene, non vuol dire essere più belli, ma vedersi più belli. Per noi la bellezza è un po' armonia mente-corpo. Questi sono poi, infatti se avrei modo di leggere il libro di Massimo, questi sono poi i tre grandi pilastri del metodo longevità. Freddo, detox e consapevolezza mentale. Il fatto della bellezza, io più bello di così non posso essere, quindi sposo la vostra filosofia, che ovviamente... Però è esattamente così, se no uno ragiona sulla longevità, ma se tu sei malato a lungo, cioè non so quanto sia una furbata, quindi questo è un aspetto. Una curiosità sul tema della crioterapia. Numero uno, quando fai ad esempio la crioterapia totale, oggi c'è la possibilità magari di avere delle macchine o delle stanze, insomma non so dove venga fatta, che siano anche mettibili in un'abitazione oppure è solo roba che deve venire in una clinica specializzata o lo puoi sostituire, ad esempio per fare le tue docette fredde, è una cosa in un qualche modo assimilabile o è proprio uno step diverso? Ci sono due tipologie di tecnologie, noi stessi abbiamo fornito a clienti, magari un po' premium, perché non è una tecnologia, però che possono permettersi tutti, che vogliono nella privacy di loro casa poter fare la crioterapia tutti i giorni ed esistono tecnologie oggi proprio da privati, quindi come una vera e propria sala. Nei nostri centri sono un poco più potenti, un poco più grandi e quindi tecnologie forse un poco più difficili. Come efficacia ti rispondo dicendo che sinceramente la doccia fredda è già un ottimo booster, in realtà quello che la crioterapia entra, aprendo un nuovo argomento, dentro questa nuova filosofia medicale che è il biohacking, hackerare il sistema biologico per renderlo più resistente, più resiliente, più forte, riscoprendo un po' degli stimoli che attavicamente ci hanno protetto e ci hanno fatto evolvere, ad esempio l'uomo primitivo resisteva attraverso anche stimoli che proteggevano le sue cellule, il suo corpo che erano quotidiani, tipo il freddo intenso, non avere neanche gli abiti, il digiuno, la paura di dover affrontare. Oggi sono cose che oggi sono molto vattate e quindi percepiamo meno. E quindi è logico che, viene da dire, un freddo molto più intenso come la crioterapia esercita un hackeraggio molto superiore rispetto alla doccia fredda che tra l'altro è anche obiettivamente più complessa da fare perché io personalmente, ma anche Luigi te lo confermerà che facciamo la doccia fredda tutti i giorni anche a casa, ma poi facciamo la criot si soffre di più fare la doccia fredda a, non so, 17 gradi, 13 gradi, 12 gradi, piuttosto che entrare a meno 100 nella criot, perché logicamente è un freddo molto secco e intenso, ma che stimola molto di più questi sistemi che atavicamente andavano a produrre delle sostanze che si chiamano sirtuine, che proteggono tantissimo le cellule e che oggi noi, appunto, tutti i nostri stimoli che diamo nei nostri centri sono legati alla produzione di queste molecole che alla fine oggi esercitiamo di meno perché siamo in un mondo che apparentemente ci protegge, poi lentamente ci distrugge e ci ha fatto sopravvivere molto di più di quanto non potessimo immaginare anche solo 20 anni fa, ma come hai detto giustamente te, la medicina si è occupata molto di salvaguardare dalle malattie, ma poco di potenziare la salute, quindi sopravviviamo a tante malattie oggi fortunatamente, questa è l'ABC, ma spesso come veniamo fuori da una malattia è un compito che ancora non è bene chiarito dalla medicina di chi se ne deve occupare e oggi anche in tema pandemico l'ha riscoperto perché spesso chi si pensa sano quello era sano ed ha avuto chissà quale problema, in realtà sposte l'essere sano è qualcosa di diverso che non avere le malattie. Assolutamente, qui a Brighton c'è una grande come dire affluenza di persone che vanno a fare open sea swimming nell'oceano in qualunque periodo dell'anno io ho provato un paio di volte è veramente freddo non so come spiegare anche facendo le dolce fredde io faccio veramente fatica e invece non lo so mia moglie che è inglese ha fatto 5 chilometri per una charity insieme alle sue amiche in costume così e dico wow e la cosa che ho sempre notato però è un dato empirico che chiaramente sai io non sono un medico è solo un'osservazione così e che non sono mai malate cioè non sa malamai e dico boh sarà un caso o magari per me c'è un collegamento perché comunque il tuo fisico deve essere forte per gestire quel tipo di impatto che poi è l'oceano è freddo e anche non sta fermo quindi anche fisicamente sei in una situazione così e se uno ogni giorno o non so 3-4 volte la settimana è dentro lì probabilmente ha un impatto vi domando se questo ha siano mai stati fatti degli studi su questo o anche sul tema della della creoterapia che livello siamo di evidenza scientifica o quanto invece sono solo dati empirici ad oggi c'è molta evidenza scientifica che il freddo fortifica il sistema immunitario ci sono tante diciamo anche lavori scientifici su riviste impattate oggi che è molto possibile standardizzare perché il tema del lavoro scientifico è la standardizzazione ad esempio se lo fai semplicemente nuotando nel mare è difficile capire a quanti gradi per quanto tempo quanto è la dispersione termica quindi tutte le volte che facciamo un lavoro scientifico c'è bisogno di standardizzazione e solo ultimamente abbiamo la possibilità di avere delle creocamere standardizzate quindi oggi c'è molto entusiasmo e c'è molta ricerca che anche noi stiamo facendo conducendo dei lavori che ci permettono di andare a vedere questo la sensazione quindi è anche supportata dal lavoro scientifico è proprio quello ma tutto ricade in quello che ho detto prima che il freddo rappresenta uno stimolo molto più dannoso per l'uomo rispetto al caldo se noi pensiamo noi tolleriamo molto variazioni in alto di calore ma molto poco verso il basso e quindi abbiamo la necessità proprio per questo il nostro sistema ha messo in atto dei meccanismi di autoprotezione ogni volta che veniamo a contatto col freddo che per non farci morire in realtà per farci e poi non farci ammalare ecco perché usiamo il freddo ed ecco perché ha molto più sfondato questo ambito noi usiamo il caldo per rilassarci ma il freddo per curarci e poi lì si aggancia tutta quella che è la vera deriva mortale dell'uomo che è l'infiammazione noi sappiamo che quando becchiamo una botta ci mettiamo il ghiaccio perché sfiamma ma anche avere una temperatura più bassa comporta necessariamente il fatto di ridurre un po' l'infiammazione che è quella microinfiammazione che noi non riusciamo mai a studiare cioè non è che uno dice fai gli esami del sangue guarda sei infiammato adesso Luigi diceva non so lo sto assossidrativo dicendo in realtà quello che è ancora meglio dire anche per chi magari ascolta o così anche per noi per capire è che in realtà quando sei microinfiammato non è un esame sballato semplicemente dormi peggio ingrassi di più ti si gonfia la pancia non digeresci bene sei meno energico e questi sono tutti segnali di microinfiammazione il freddo intenso ma anche nuotare quindi cimentarsi in questo esercita un'azione antiinfiammatoria che poi si è percorrata anche in queste piccole situazioni che in realtà non solo ti fanno ammalare meno ma ti fanno anche sentire meno le malattie perché noi ricordiamoci che molto l'approccio mentale che hai anche nei confronti di te stesso e della credenza che hai che il tuo corpo possa essere resiliente e chi più che nuota in mezzo all'oceano freddo ha la percezione di essere un po' un supereroe alla fine è la predizione che si autoalvera a me succede in senso negativo chiaro mi domandavo a livello di tecnologie a che punto fossimo a parte il tema crioterapia avevo letto ma questo ormai tre quattro anni fa era venuta fuori la notizia non mi ricordo forse human longevity si chiama non so c'era quell'azienda che era partita una clinica credo a San Francisco il founder la mia memoria al solito è pessima però insomma era uno di quelli coinvolti nella scansione del DNA eccetera eccetera e avevano lanciato questa clinica e poi non so che fine abbia fatto dove in sostanza ti dicevano guarda noi ti portiamo qua facciamo una serie di esami dove facciamo la scansione 3D del tuo corpo vediamo dentro fuori e a quel punto ti allunghiamo la vita in sostanza la dico brutta mi domandavo a che livello di tecnologia siamo da un lato se ci sono magari e che oggi possono essere utili e poi in generale quanto possa realmente avere un impatto quanto nella vostra esperienza poi sono delle decisioni di buon senso che vanno seguite per cercare di avere appunto una buona longevità ma quello è tuo Massimo allora i grandi passi in avanti oggi in tecnologici sono stati fatti nella diagnosi quindi oggi abbiamo veramente degli strumenti importanti che vanno a avere in mano diciamo una mappatura è un po' come se noi oggi siamo in grado anche con le nanotecnologie di fare delle diagnosi stupefacenti quindi riusciamo a fare un identikit preciso di chi sei e di cosa ti manca oggi siamo molto più carenti sulla parte diciamo terapia cioè cosa possiamo fare per sanare quei gap che vediamo inerenti al deficit che puoi avere a livello del DNA ma anche dello stesso microbiota o ad esempio anche delle energizzazioni noi oggi semplicemente con un anello messo al dito riusciamo ad avere dei parametri che traslati con delle tecniche diciamo di ingegneria e riusciamo a sapere quant'è la tua energia se ti puoi mettere al volante a guidare se hai una probabilità di avere delle aritmie quindi siamo veramente molto capaci nel capire e anche un po' nel predire molto meno anche perché lì ci si va a mettere in un pull de sac che è la parte etica perché oggi ad esempio questa start up di cui parli una delle più famose si chiama Cellularity che è sempre nello stesso posto che hai citato prima negli Stati Uniti si occupa di cellule staminali e della possibilità di andare a trattare e anche non solamente le malattie genetiche ma proprio andare a colmare quei gap che tu puoi avere ora il vaccino che abbiamo usato è una tecnologia che invece di farti produrre la proteina Spike che su cui agisce il tuo anticorpo immaginiamola dove ci possa essere montato qualcosa che ti produce una proteina che ti manca o che ad esempio le sirtuine che sappiamo che calano dopo i 50 anni e ti fanno invecchiare cioè questo è il futuro oggi la domanda che ci facciamo è è etico oggi manipolare in questo modo la vita delle persone si entra in un confine soprattutto dove viviamo noi in Italia un po' meno forse dove oggi sei tu dove ci sono dei paletti etici che non ci consentono saremo molto più avanti di quanto non siamo se appunto la scienza fosse però questo entriamo in un dibattito dove nessuno può dire di avere la ragione ma io dico come dicono gente molto più più diciamo che è più dentro di me il problema anche perché la studio da più anni che è già nato chi vivrà 180 anni e quindi oggi si è messa più in là ma non solo quello che vivrà 180 anni ma vedrà in piena salute 180 anni perché saremo in grado di diciamo alterare le problematiche o curare diciamo curare perché non è nemmeno una malattia comunque di mantenere sui binari che la natura ci regala fino a più o meno 30-35 anni tutti dall'inizio è un po' il decadimento perché i sistemi biologici ci lasciano perché non è più interesse per la natura che noi una volta che abbiamo esempio procreato mantenerci in vita quindi in realtà non è più importante oggi possiamo riadrezzare e restare su questi binari sì e poi psicologicamente a me fanno un po' paura perché l'aspettativa della tecnologia che ti allungherà la vita è un po' l'aspettativa di una scorciatoia no? cioè tu dici ok vabbè tanto prima o poi arriverà la tecnologia dove mi impiantano il microchip e vivo 10 anni di più e continuo a fare la mia vita come ho sempre fatto invece è molto più semplice poche abitudini quotidiane tutti i giorni è quello che fa la differenza soprattutto qui e ora no? perché se poi tutto arriva fra 20 anni fra 30 anni quando tutti e tre abbiamo 50 anni è oggi quindi fra 20 o 30 anni forse è un po' troppo tardi mi domando se nella vostra esperienza avete individuato un buon sistema per per aiutare le persone non solo a comprendere perché la comprensione è facile se io parlo con qualcuno e dico ma la doccia fredda a me ha dato benefici tutti dicono ah forte poi dico ma hai provato a farlo? no no non lo faccio la doccia fredda solo l'idea uno dice no non lo faccio perché il tema poi è eseguirlo o mantenere delle abitudini uno dice non so l'alcol evito l'alcol bene però poi devi evitarlo cioè devi mangiare bene o devi fare digiuno o devi avere delle abitudini che cosa fate voi per aiutare magari una persona a prendere una buona abitudine e a essere sostenibile mantenere continuare a farlo e non che sia una cosa che faccia tre giorni e poi smetto il concetto è quello del insomma nella psicologia della vendita lo chiamo il piede nella porta cioè noi abbiamo tantissime persone che vengono da noi veramente a livello zero cioè non ho mai fatto niente per me e allora l'obiettivo è quello di fargli mettere un pezzetto appunto il piede nella porta e non gli posso chiedere di allenarsi un'ora la mattina o subito di fare tutti i giorni la doccia non lo faranno mai è uno step troppo grande quindi iniziamo nel coinvolgere in piccoli pezzi no vuoi iniziare la doccia fredda perfetto fatti la tua doccia calda e poi comincia con un po' di freddo nelle gambe fai 10 secondi poi c'è un percorso che ti porta a fare 20 30 secondi poi fatela tutta solo 10 e il tema è e la bellezza di questo è poi la parte della consapevolezza che se tu riesci a fare dei piccoli pezzetti si attiva un processo di circolo virtuoso no è come quando ci si allena oppure si smette di allenare e tu non ti vuoi più allenare no si attiva tutto un processo di sistema nervoso appunto il circuito della dopamina anche della parte serotoninergica che ti fa stare bene mentalmente e tu non ne puoi più fare a meno c'è bisogno di dicono 21 giorni ma c'è una prima fase iniziale dove noi cerchiamo di stare di molto vicino siamo in fase dove dovremmo farlo anche un po' con la tecnologia e noi in questo probabilmente non siamo ancora evoluti nel senso che probabilmente con le app con la gamification con tutto quello che aiuta poi le persone a tenere altra la motivazione si può fare di più cerchiamo ripeto di costruire un lifestyle e il parametro che loro devono valutare è sempre uno non è sono più magro sono più bello ma tu ti senti bene cioè questa è la domanda l'altra cosa molto importante Marco che un po' lo fai anche tu secondo me nelle cose almeno per quanto ti seguo è l'esempio cioè tu non puoi parlare di cose che non hai mai visto studiato non hai fatto su di te io credo che il grande nostro successo sia che i primi a fare queste cose e non è così scontato soprattutto dal mondo dove vengo io dove io facevo l'università non mille anni fa vedo anche io più o meno la tua età io andavo a fare la visita con il professore che fumava durante la visita nella camera dei pazienti per me era assolutamente normale questo e mentre dicevamo al paziente di non fumare perché gli era venuto un infarto quindi obiettivamente era veramente un disagio io credo che tu devi entrare in un posto dove ci sia coerenza che non vuol dire appunto però inarrivabile quindi quello che diceva Luigi è che invece di chiederti un cambiamento ti chiedo una trasformazione che vuol dire si te stesso nel futuro se no non ti riconosci più allora torni indietro un po' come la dieta da oggi mangi di me da domani mangi perfettamente alla fine non vedi l'ora di tornare a casa ecco una piccola la trasformazione è l'esempio poi devo dirti anche una piccola cosa che almeno succede su di me in ambito medico si gode ancora di un certo allure per quanto abbiamo fatto di tutto per dove la ricetta che fai il farmaco che dai la cosa che prescrivi viene seguita e dici cose anche poi dopo la gente c'ha lo spunto che anche un po' ti gioca a favore è logico che non devi fregarli perché oggi non freghi più nessuno oggi non puoi mistificare cose e quindi anche la coerenza ma anche la consistenza di ciò che dici e quindi bisogna avere molto rispetto perché oggi giochiamo ancora un ruolo dove potremmo anche dire cose abbagliando mettendo ma noi siamo molto consapevoli e infatti un passo indietro piuttosto che un passo avanti ma cose consistenti che hanno un fondamento scientifico e che siano cioè la vera nostra sfida è mettere insieme i puntini non scoprire necessariamente cose nuove chiaro ero curioso visto che prima hai citato il caldo quale fosse la tua visione sul ad esempio le saune ho comprato di recente ovviamente io sperimento continuo sono un guinea pig quindi sperimento su di me tutte le cose che magari vedo e quindi stavo leggendo queste ricerche insomma sull'impatto della sauna rispetto a quello che possono essere ad esempio problemi cardiaci e cose così ho detto allora prendo una sauna blanket ho comprato una sauna blanket dove mi metto lì tre volte alla settimana mi faccio la mia saunetta quella sauna blanket e sono tutto contento penso funzionerà funzionerà non lo so se funzionerà però dico nel dubbio faccio anche quello insomma mi domandavo ecco se come sul freddo anche sul caldo ci fossero delle evidenze di qualche tipo in realtà oggi si è molto spostato verso il freddo e sul caldo abbiamo degli studi che riguardano più la correzione di alcuni fattori di rischio ad esempio noi sappiamo che chi soffre di pressione alta il caldo determina una riduzione della pressione quindi se parliamo nella medicina mia quella più cardiovascolare quella legata all'ipertensione il caldo ha molte evidenze perché restare al caldo ipotente quindi alla fine si rischia di togliere medicine quando c'è una esposizione continua al caldo in realtà il caldo però innesca anche dei processi degenerativi di invecchiamento perché abbiamo un aumento di quello che è i processi metabolici non utili non aumenta il metabolismo basale anche aumenta la diciamo azione delle cellule e noi sappiamo che per avere una vece un'antinfiammazione e una longevità dobbiamo un pochino risparmiare infatti tutto quello che va contro e da lì nascono tutti gli studi anche sul digiuno dobbiamo mettere a riparo le nostre cellule fermarle un attimo rallentarle e non agitarle per parlare in termini poveri però logicamente anche il caldo ha senso ecco l'alternanza tra caldo e freddo potrebbe essere l'effetto finale giusto quindi sempre ferma il caldo poi il freddo perché questo innesca diciamo una ginnastica anche metabolica anche cardiovascolare molto utile quella che anche lì non si scopre niente perché gli antichi romani prima di loro diciamo le terme è caldo freddo frigidario ecco forse le temperature così eccessivamente calde sono da preferire quelle un pochino medie e oggi una valida alternativa sono queste red light che tendenzialmente la luce rossa a termica è quella che energizza più le cellule ma se la mettiamo appunto anche un po' calda può avere un'azione di appunto come dicevamo prima anche di vasodilatazione quindi può essere utile però non è così aggressiva come i 100 gradi ma i 90 gradi quindi massimo in sostanza butto via subito quella che mi è costato un occhio lui compra tutto anche lui fa tutto così anche lui quindi magari l'ho appena preso e tutto poi ho fatto il fenomeno adesso la prendo la butto vabbè piglio la lucetta rossa ho capito Luigi una cosa che non è mai nuotare con tua moglie in più perché poi io faccio tutte ste robe la doccia fredda così e lei poi va e mi guarda come dire il fisico proprio di questi italiani non è a livello ma l'altra cosa che vi volevo chiedere cos'è che mi fa tenere in mente ok sono a blanket in generale come si fa a allinearsi di volta in volta a quelle che sono le evidenze scientifiche vi faccio un esempio io intermito in fasting tra le varie cose non ho problemi ad esempio a mangiare la sera a cena poi salto a colazione cioè arrivo e mangio a pranzo cioè non ho mai fame io la mattina quindi ho detto va bene faccio questo questo stacco che che sembra positivo eccetera poi parlo con l'ongo e dice ma in realtà abbiamo visto che a colazione insomma ragazzo mi avete detto che ero lì che potevo anche fare l'intervento di fasting così allora ogni tanto adesso mi metto lì e mi mangio anche se non ho fame cerco di mangiare a colazione però in generale la valutazione che facevo era ogni volta che scopri qualcosa di diverso la scienza è in evoluzione non è che hai tutte le risposte per cui magari ti comporti in un certo modo ma poi uno dice ah no aspetta però abbiamo visto che come si fa a tenere traccia e come dire a evitare magari di seguire una strada che ti sembra giusta in quel momento ma poi non avevi le capacità di fare uno studio magari veramente complessivo e che ti dava la possibilità di avere altre altre evidenze ecco mi domando sempre come si fa a stare al passo con le nuove scoperte le nuove le nuove indicazioni per Luigi è più difficile adesso perché questo va contro un po' lo spirito di marketing infatti è giusto equilibrio perché in realtà devi resistere dalle tentazioni di andare sempre dietro l'ultima scoperta questo è un po' il tema che è un po' contrasta verso il marketing che vorrebbe vederti cavalcare l'onda e ce l'ha già quando è stata detta questa cosa con molto diciamo timore con molto timore ti dico che in realtà io credo che di grandissime scoperte di grandissime scoperte non ne siano state fatte tante e quindi è sempre bene guardare al passato noi spesso siamo tutti nel mondo medico perché in quello tecnologico in realtà non c'è un pregresso a cui riferirsi però la gran parte delle cose non è per dire che ipocrate aveva già detto tutto però l'osservazione dell'uomo era già stata fatta le cose erano già state dette quindi la mia faro un po' a cui mi seguo è se una cosa coerente che può avere senso con quello che siamo stati e da dove veniamo e quello che è già stato detto magari rivisitato in termini tecnologici cioè noi sappiamo che il freddo ha sempre sfiammato e quindi questo l'abbiamo percorso volentieri però nessun uomo ha mai camminato test in giù per vivere di più o per stare bene quindi se ci fosse questa scoperta direi ok aspettiamo un attimo andiamo a vedere se storicamente qualche persona è sopravvissuta o ha tratto veramente beneficio perché è già stato detto tutto è già stato detto tutto dopo non l'è stato fatto con la tecnica quindi oggi quando entriamo nella parte micro della situazione è logico che ci si aggrappa un po' di più ma la ricerca prima che diventi traslazionale ad esempio dal mondo della DNA della biochimica che possa dare dei frutti che possono essere traslati nella pratica passano decenni quindi è un po' tenere il freno a mano quindi esattamente la via di mezzo che demarca me e Luigi ed esattamente il nostro equilibrio dove lui mi spinge a usare io spingo a frenare e devo dire che ognuno di noi dovrebbe avere un alter ego in questo modo perché altrimenti almeno in questo ambito si fanno delle eliche per trovare un buon bilanciamento e ho visto dalle vostre espressioni appena ho detto che non faccio colazione insomma vado a scrivere il testamento perché ho capito che questo è qualcosa di negativo quindi ok devo rimediare su quello se fai fatica tutti fanno più volentieri la cena rispetto alla colazione no mediamente quindi è esattamente la cosa sbagliata perché un po' di quando non fai fatica spesso non c'è così tanto per esempio ma poi da un punto di vista psicologico guarda due cose sono consapevolezza e variabilità cioè la consapevolezza ti aiuta un po' avere la percezione del tuo corpo cioè cos'è che funziona per te cioè se tu sei conscio di come sta funzionando il tuo organismo la tua biologia sai perfettamente che se sposti il digiuno dalla sera alla mattina funziona di più o di meno quando ti manca un po' questa consapevolezza perché sei sempre a palla e non ti fermi mai da un punto di vista mentale fai fatica a rendertene conto e il secondo è la variabilità qualunque cosa tu faccia non farla sempre costante tutti i giorni perché è un po' la fine dei risultati ce lo insegna la palestra se io faccio lo stesso esercizio anche tutto l'anno tutti i giorni dopo un po' il muscolo non lavora più quindi digiuno bene fatto tutti i giorni no perché dopo un po' questo bellissimo corpo dell'essere umano che si adatta a tutto si adatterà anche a quello anche la doccia fredda tutti i giorni può darsi anche no perché magari devi avere dei momenti in cui il corpo deve capire che c'è un cambiamento e quindi anche variando riesci a avere la possibilità di capire che cosa funziona di più e che cosa funziona di meno mi piace il tema della consapevolezza e lo collego alla tecnologia ovviamente il mio settore di riferimento però vi do questo esempio io ho provato ho usato credo un annetto l'Ura Ring che è uno dei possibili bello l'ho trovato molto bello divertente un sacco di dati così poi ho smesso di usarlo infatti l'ho regalato l'altro giorno a un mio amico ho detto guarda non lo uso più non perché non ci riconosco un valore ma credo per due motivi primo perché magari non ho non avendo un riferimento di persone come voi che magari aiutano a analizzare quel dato e a trasformarlo in un'azione utile dopo un po' è come dire sì vedo una fotografia ma ok oggi ho dormito bene ho dormito male però la seconda cosa che mi faceva riflettere è che paradossalmente mi staccava dalla consapevolezza del mio corpo no perché ero più preoccupato a dire aspetta fai vedere ho 95 oggi 84 è già il semplice come dire riscontro che magari non so non era aggiornata l'app o non so e quindi mi creava una sorta di è come quando uno dice guarda devo smettere di guardare il cellulare allora mi metto le notifiche sul cellulare per smettere di guardare il cellulare forse togli proprio il cellulare e quindi c'è anche questo aspetto di trovare una consapevolezza e ancora una volta un bilanciamento insomma non essere schiavo della tecnologia ma averla a tuo supporto per poi quello che è lo scopo complessivo di stare bene vivere bene nel momento e poi ok serviamo di più ottimo è il discorso Marco che ti dicevo prima della diagnosi noi abbiamo un sacco di dati oggi siamo iper monitorizzati basta dire anche gli orologi ci danno un sacco e poi obiettivamente prima non sai cosa fartene secondo se non sai cosa fartene ti viene anche l'ansia adesso al di là di dire perdono ancora prima ti viene l'ansia perché quanta gente è venuta in questo momento da noi ho 96 di saturazione cosa succede ce l'hai sempre avuta cammina tu fai due passi e ti arriva a 100 ma al di là i dati vanno saputi maneggiare quindi non devono essere open così per tutti forse forse dobbiamo restituire un'interpretazione del dato che possa essere un suggerimento più friendly e meno rude perché non siamo logicamente pronti e non lo dobbiamo nemmeno essere perché non dobbiamo diventare tutti i medici esattamente il mio grande crucio sulla tecnologia è proprio questo quindi anche parlando di quell'anello dove adesso avremo tra l'altro una riunione per parlare proprio di quell'anello e anche di provare a capire quanto open siano i dati per poterli elaborare e traslarli anche lì in suggerimenti che possono essere più simpatici e meno diciamo ansiogeni un altro simile evento nel mio caso testando di tutto di più chiaramente ma per curiosità anche per vedere come funziona insomma le cose come dicevi tu mi piace toccare con mano per farmi un'idea ho fatto un test del dna con una nota azienda qualche anno fa e anche lì sì carino divertente interessante però cioè se tu lo lasci a una persona che non ha nessuna preparazione boh magari mi allarmo inutilmente su qualcosa che dico uh caspita hai visto c'ho il gene del pelato che adesso mi porterà ancora più pelato non lo so cioè hai l'incapacità di valutare allora dovresti sempre avere qualcuno che ti aiuta a comprendere e b non lo so è una probabilità è una possibilità cioè di che cosa parliamo quando si dice ecco il coso l'alzheimer e quindi anche su quel su quel campo alla fine dicevo boh avere i dati così a disposizione di persone ignoranti perché poi quante persone veramente hanno la capacità di entrare nel merito rispetto a tutti questi dati è bello da un lato ma dall'altro lato poi l'utilità pratica c'è ecco anzi ti crea più danni che vantaggi non lo so era una riflessione in generale ecco su questo che è a disposizione bellissimo ma poi se la proietti tu ti faresti le analisi del sangue tutti i giorni cioè che senso avrebbe è ovvio che se te le facessi tutti i giorni magari c'è il giorno che ti viene fuori un parametro per forza è inevitabile ma in termini di DNA oggi è più il business che in realtà l'efficacia o comunque l'utilità ma questo ci rilascia anche un termine però bisogna anche essere sempre bilanciati soprattutto per chi fa io sono molto onesto credo in questo per chi fa business anche sulla salute o su chi ha un'azienda e come tutte le aziende anche deve fare dei profitti e oggi è più una questione di marketing il DNA perché noi sappiamo che il vero modifica il vero fattore da modificare è l'epigenetica cioè il nostro comportamento spesso ha un allure minore e tu devi leggere questi dati come una porta d'ingresso ed è lì che vanno prescritti giusti ed è lì quello che diceva Luigi quando entri ti chiedo chi sei perché tu sei puoi essere disponibile a trasformare il tuo stile di vita perché un tuo amico si ammala perché non ti piaci più ma anche perché hai paura e dico la sana paura che ti fa scappare dal dolore o dalle cose negative attraverso un test che esattamente resterà tale e non si modificherà perché se c'è un gene predisposto lo sarà però magari ti aiuta a cambiare la tua epigenetica quindi secondo me queste cose oggi servono come porte d'ingresso per entrare in contatto con le persone e agire quel cambiamento quella trasformazione che altrimenti serve più difficile ecco quello dicevi come fate a trascinare le persone ecco questo è un altro elemento e trovare qual è il punto oltre al quale ognuno è disposto a cambiare delle volte anche dopo un esame del DNA che esattamente oggi serve a poco perché non è che poi ti cura il DNA chiaro una domanda classica che si fa sempre in questi casi è quando si leggono i vari titoli di giornale dove Google dice ecco abbiamo il team e vivremo fino a 270 anni poi arriva quell'altro col capello lungo che dice ma no in realtà vivremo fino a 465 anni e da un lato non capisci quanto vivremo cioè realisticamente ecco e da quando sarà questa possibilità di vivere più a lungo disponibile come dire da quando parte la la l'attivazione no io magari aspetto 20 anni e quando ho 70 anni tra 20 anni siamo a un punto tale in cui dico ah fantastico adesso c'è tutta una serie di cose nuove non solo tecnologiche ma di di scoperte che a quel punto da 70 anni mi fanno ritornare indietro a 30 e rivivo cioè non mi è chiaro come come funziona ecco e volevo capire realisticamente voi come come la vedete realisticamente io poi ti lascio la risposta medica da un non medico ti dico siccome ahimè non lo so e non riesco a controllarlo vivo oggi ecco il senso di tutto cioè è provo a capire eh c'era una bellissima frase di 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 che diceva alla fine tutti pensano allungare la vita ma nessuno pensa ad allargarla no cioè quello che conta è la giornata di oggi l'hai vissuta meglio che potevi poi non sono il numero dei giorni ma contano i giorni diversi ecco questa è la vera longevità cioè quanti sono i giorni realmente diversi l'uno dall'altro e che vivi veramente con un grado di consapevolezza serenità gioia sapere apprezzare l'oggi perché se no sei alla rincorsa da un lato professionale di obiettivi inarrivabili e nell'aspettativa di vita magari se li hai da aspettare quel momento che vivrai per sempre perché si arriverà no ci sono delle start up che parlano di eternity cioè che non si morirà mai però non lo puoi controllare quindi io da Marchettaro dico oggi qui è ora detto tra noi che palle se si vivesse in eterno cioè dopo un po' dici basta non ce la faccio più cioè fatemi non so dopo mille anni non so dammi mille anni e poi voglio dire insomma diventa un po' poi abbiamo morito in tutti i film dei supereroi dopo un po' quelli immortali vogliono morire dopo un po' basta cioè insomma l'altro problema e poi scusami Massimo volevo un po' ovviamente riscontro l'altro l'altro problema è anche diciamo un problema di accesso a una vita più lunga se l'accesso passa anche dalla tecnologia o dalla medicina e all'inizio quella parte lì è accessibile però a un prezzo premium chiaramente la parte di popolazione più ricca sarà vive più a lungo e quella più povera schiatta prima insomma quindi c'è anche un problema di disparità e di democratizzazione di quello che che è un aspetto proprio di longevità se no chiaramente c'è un gap enorme insomma che è già un po' così in realtà e lo è da sempre bisogna cominciare a immaginare la longevità in un modo un po' più tridimensionale detto in termini più pratici comunque rispondendoti proprio analiticamente noi sappiamo che la vita media si allungherà attorno ai 100 110 anni sicuramente nei prossimi 20 anni e quindi viviamo di più grazie semplicemente a ciò che stiamo già iniziando a fare in questo momento che fuori c'è freddo siamo dentro abbiamo accesso alle medicine abbiamo una rete che ci può diciamo venire in soccorso quando cadiamo e ci facciamo male e oggi quindi è proprio un modo per renderci non dobbiamo dimenticare che più ci proteggiamo più ci indeboliamo quindi ecco perché bisogna continuare a mantenere degli stimoli un pochino più diciamo rudi e nativi e più ancestrali l'altra cosa dicevo la 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 perché è veramente molto relativo gli anni quando stai male ogni minuto è un'eternità quando stai bene quindi la vera risposta oggi la prima risposta della longevità è togliere il dolore vive senza dolore anche mentale quindi è questa la consapevolezza in realtà ha già vissuto molti più anni di quanto perché quando vivi col dolore stai male ogni ora ogni minuto è un'eternità e questo ma un'eternità e quindi non vedi l'ora di finirla in un certo senso che smetta vuoi che il tempo passi veloce quando stai bene ti godi il minuto ti godi ti godi diciamo il momento ed è proprio lì quindi io credo che una grande ruolo sociale per rendere questo accessibile a tutti sia nel veramente creare che il viaggio qualsiasi sia è la parte più importante viviamo già molti più anni di quanto non ci servono spesso per realizzare ciò che realizziamo o per immaginare ciò che vogliamo ma non lo sappiamo ce ne rendiamo conto dopo tu insegni tantissime cose io credo che quelle cose che insegni spesso andrebbero insegnate sempre più precocemente non all'università così perché l'intelligenza anche di capire le cose e via dicendo sarebbe importante impararla prima per migliorare la consapevolezza il prossimo step può essere anche questo anche queste educazioni queste chiacchierate queste diciamo cose dirle più precocemente alle persone contribuirebbe creare una longevità che non è semplicemente temporale ma è spaziale quindi esatto assolutamente mi domando se l'Inps davanti all'aspettativa di vita a 110 anni sia ovviamente preparata immagino in Italia avranno già fatto tutti gli studi per essere sicuri che è tutto a posto perché ci sarà un problema a parte anche qua in Inghilterra ovunque se la gente vive di più poi le pensioni così insomma questo sarà un macro tema sociale da individuare volevo chiudere questa chiacchierata con la classica domanda che odio che fanno a me ma la giro a voi perché lo so lo so io conosco poi lì so esattamente cosa stanno pensando ed è questa ogni due minuti io ricevo un messaggio di qualcuno che dice Bonti mi dai una dritta al volo ma proprio così al volo che non c'ho tempo a perdere su non so come si fa i video sui social mi dice al volo scusa vorrei fare l'Infd me lo dice al volo appena uno mi fa una domanda così io so che non faranno mai video sui social non faranno mai perché è già una dimostrazione che nulla è al volo non è il dammi la dritta veloce un secondino ma quando si parla in longevità io so già che alla fine di questo video le persone diranno ma quindi quindi che cosa devo fare per vivere meglio e potenzialmente più a lungo c'è come dire ne abbiamo già parlato in parte insomma alcuni pilastri abbiamo visti ma se arriva un amico da voi che non passa da una delle vostre cliniche ma semplicemente dice Massimo Luigi mi date la dritta al volo per vivere più a lungo qual è la vostra risposta vai Luigi perché tu allora io la sintetizzo la dritta al volo è un po' insita nel come dire nel nostro metodo quindi muoviti un po' di più di quello che hai voglia di fare non so hai voglia di muoverti per dieci minuti cerca di muoverti un po' sfidandoti un po' di più il freddo è il tuo grande amico quindi avvicinati piano piano e insomma trasformare in un alleato quindi c'è tutto un percorso per avvicinarsi a freddo fallo il cibo è la tua medicina lo dicono sempre quindi non deve essere un'ossessione devi vivere un rapporto come lo devi vivere con la tua bellezza lo devi vivere anche col cibo facendo in modo che il 70 all'80% di quello che mangi sia adeguato coerente e sano con i tuoi obiettivi poi la regola dell'80-20 vale sempre anche lì e infine quella che dico sempre di cui abbiamo parlato tanto che dal mio punto di vista e dalle mie convinzioni è quella che pesa di più è la parte mentale tu puoi pigliarti tutte le pillole che vuoi e infilarti anche un mezz'ora nella crioterapia farti le infusioni di nogevità ma se poi mentalmente non sei felice non sei sereno non sei vivere quel momento credo che quello ma poi è scientificamente provato impatta tantissimo quindi prenditi non importa un minuto due minuti cinque minuti al giorno che siano dedicati alla tua parte mentale qualunque cosa sia poi tagliare l'erba svuotare la mente meditare disegnare dipingere qualunque cosa ma dedica e prenditi cura di te ecco perché nella nostra routine noi diciamo la mattina tu sei la persona più importante della tua vita e la prima cosa a cui devi pensare sei te stesso quindi la prima cosa che fai falla per te allenati la doccia fredda mangia bene ma la prima il tuo primo pensiero deve essere a te stesso perché sei la persona più importante massimo no esattamente credo che l'ottanta per cento si giochi proprio nella prima mezz'ora 40 minuti quando ti svegli quindi non solitamente diamo veramente il tempo a noi stessi alla fine di tutto un po' come se nella tua agenda ci fosse sempre spazio per te quando non è occupata da altri quindi credo che dal punto di vista anche diciamo teleologico un pochino più trascendente sia importante piazzarsi al primo posto quindi questo in ogni cosa e questo è sicuramente la cosa da fare poi la nostra routine è una delle tante routine e credo che sia quella un pochino più bilanciata perché è strappolata da tutte le altre quindi non è una vera nostra routine ma è presa da tutte le altre ma fatta la mattina quella mezz'ora lì dedicata a te stesso e questo è un'ottima cosa l'altra cosa il bignami lo sai benissimo non esiste e già nel momento in cui il bignami vuol dire che non ci tieni abbastanza forse farsi una scala delle priorità per dire se mi stai chiedendo che vuoi fare i video su youtube e lo vuoi in due minuti è veramente quello che vuoi mi chiedi in due minuti di fare di più è veramente quello che vuoi forse ti interessa di più andare a pescare allora facci un corso di pesca ecco non so concordo in pieno per chi volesse appunto trovarvi sapere quello che fate premesso che non abbiamo ve lo dico alle persone conosco i miei polli ci conosciamo oggi per la prima volta non sono mai stato da voi mi piacerebbe prima o poi visitarvi non abbiamo nessun rapporto commerciale magari posso inserire nelle vostre cliniche un servizio su come si diventa pelati e più longevi ma questo è il massimo rapporto che abbiamo ma mi sembra invece molto interessante e utile quello che fate e se uno vuole venirvi a trovare dove vi trova o a un sito twitter social riferimenti delongevity suite la suite della longevità delongevity suite dot com siamo molto italiani anche se stiamo diventando internazionali perché siamo avendo Svizzera Spagna e Francia nei prossimi mesi abbiamo una ventina di city clinic in tutta Italia e le potete trovare sul nostro sito super fantastico Massimo Luigi vi ringrazio moltissimo è stato super interessante e ci teniamo in contatto se passate da Brighton vi porto a fare la gitarella nel mare così per dare un ulteriore brio crioterapico grazie ancora ci vediamo alla prossima grazie a te ciao ciao